Musica Ma bello a tutti ragazzi qui da Francis con un nuovo video sul canale Oggi finalmente siamo tornati qui con un nuovissimo video di Minecraft E oggi siamo qui in compagnia di Ross88 e i gemelli twins Oggi qua appunto avete capito siamo sul server Pig Party dove andremo a fare vari minigames E vediamo se riusciamo magari a collaborare anche in questo bellissimo video in team Perché molte volte con i gemelli la cosa è molto impossibile Però vabbè dico E' molto tragica Allora ragazzi Insieme cosa bisogna fare Prendere le ceste praticamente Allora ragazzi siamo qui nella prima partita delle Sky Wars E vediamo, vediamo cosa possiamo fare oggi raga Perché è delirio, ci deve essere, dobbiamo spaccare Che è successo? Prenditi la roba No, mi hanno colpito Bene Che bello il cane che abbaia Grande Un like per il cane che abbaia Esatto Ah ok No, no, no Minchia stavo cadendo Allora ragazzi c'è uno, c'è uno Dai, dai Ok Benissimo Vedi che c'è uno, c'è uno C'è uno Ucciso Grande Anche questo Uccidilo Pio andalo Uccidilo E' peggio di counter strike No Compati Stavo vecchiando a te Pensando che fosse un altro No C'è uno Spadegniamo Non facevo i danni Ah siete Ah voi due Mi sono sacrificato Però poi Grazie Vi siete presi Tutta la roba Quando sono morto Sì Siete contro un ragazzo Siete contro uno Potete andare a ammazzarlo Che sta avvenendo Che cazzo dici Sta avvenendo Eccolo Iniziamo a fare un lancio Dai venete Poi Minchia all'arco No Attento 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 Mongolo Scappa Scappa Questo è con l'arco E' vero Col culetto Te l'ho detto No Sei morto Te l'ho detto E' Rosso Sei La nostra salvezza Ma che Minchia Devi andare al centro E' ammazzarlo Di corpe Difenditi Difenditi Uccidilo Uccidilo Vai 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 Spapa Spapa Dove è successo Perché sono andati in cielo Perché sei morto Bene Dai ragazzi Siamo In un'altra partita Prenditi un po' di armatura Perché se no Non fa niente Se no Non è in arma Non c'è niente Allora ti do questa Perché a me non mi serve Ti do pure la TNT Se la vuoi Dai Uccidetemi Uccideteli No 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 Non c'è andare incontro Perché ci sta andando E buttalo giù Ma dimmi te che gioco Cruento Ok così dai Ne abbiamo eliminati due Io e Giorgio Forse Minchia no no C'è quello che ha la spada In diamante No E' Omer Che cazzo è Non uccidiamo più di qui Baby Dai raga Sto copando Merle Veloce 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 Bravissimo Così Adesso fai il ponte al centro Bravo Bravissima Oh c'è gente C'è gente C'è gente Vai Ammazziamolo Oh è la spada in diamond Questa Dai Ce n'è pure al centro Ve l'ho messa un po' No sì C'è uno C'è uno Dove cazzo sei Giorgio Ti prego Tu è la spada in diamond Io i rossi Siamo nella merda No Un cuore L'ho ucciso Prendetevi la roba Raga Sono fortissimo Sono distruttivo Arrosso Arrosso Un po' di armatura Che tu c'era tutto in pelle Ve l'avevo lasciato Un po' Un bordello Mettitela Raga Sto distruggendo tutti Oh c'è uno C'è uno C'è uno C'è uno C'è uno Ucciditelo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Infatti ho visto I gemelli Tizzi Primi E vai Ho uccisi tutti Ho ucciso tutti Ok dai Uno di nuovo Questa mappa bella Che bella Mamma mia Sto video Secondo me Ah ragazzi Vi dico una cosa Se raggiunge 30 likes Facciamo il prossimo episodio Esatto Esatto Giusto Esatto Ragazzi Siamo qui nella terza partita Se questo episodio Come ha detto Ross Raggiunge i 30 like Appunto avremo Un secondo episodio Magari in un altro canale Esatto Comunque vi invito A iscrivervi Ai gemelli twins E a the franchise Però è il video E di the franchise Quindi dovresti dire Cioè Dovresti A prendere Il momento Spam Per te Minchia Quelli Al centro So full Diamond In un modo Assurdo Madonna Mia Andiamo via Scappa Scappa Ce l'ho Piazzano In culo Adete Guardi Guardi Non sono Così Scappa Giorgio Scappa Veloce Raggiano l'arco Raga ma come si fa A fare le frecce Sono morto Non so Qui L'arma E io cosa devo fare Non ne odi Cazzo Corri Scappa Giù Mangio Scappo Non mi fa scappare Non mi fa crepare Sono morto Madonna Questo url Entrerà nella storia Di youtube Esatto Che ragazzi Eccoci qui Nell'ultima partita Di questo bellissimo Episodio delle sky wars Insieme a rossa E ai gemelli Bello Ciao Bello Di nuovo Grande Bella No dobbiamo andare al centro Si basta Stai isola a scrausa Dai Aspetta Andiamo al centro Che è meglio Vabbè aspetta Minchia ma vi siete fullati Io non so povero Io Io non ho la spada Raga come faccio a farmi la spada Aspetta Hai piccone Si Allora dammelo così Te lo vado a prendere Del ferro Ma il ferro ce ne ho C'ho tre pezzi Hai piccone Hai roba E non ho la fare per farlo Il carbone Ok te lo vado a prendere Te lo vado a prendere Grande vai vai Siamo bloccati Non c'è altri blocchi Siamo bloccati Mannaggia Ross Mannaggia Mannaggia Aspetta Aspetta Che ce la faccio Ce la faccio Un attimo Ce la sto per fare Ma non dovete rendermi Adesso siamo bloccati Definitivamente Che l'ignore Ragazzi Ce la stavo facendo E tu vai E ti metti là Mi sembra Guarda capo Ah ci abbiamo fatto A meno male Grandi ragazzi Vediamo anche voi Come fate bloccati Bravo Coppa Vedi che ho fatto La scala Così Comba Comba Come va Tutto bene Saluto Saluto Marco Che il fatto che adesso io non so cosa fare Che cazzo Siamo forti Madonna che culo ragazzi Ma avete visto che il numero che ho fatto Adesso muoio Ho detto adesso se muoio mi bannano Non lo stico Non mi parlano più Dai venite al centro venite Venite Allora Vedete Facciamo una cosa Ma che vada Attento attento C'è uno con l'arco Schifo male Mio C'è uno spade Diamante Scappa Vattene via 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 Scappa Via Via Vanno Ammazzato Bene Vanno Vissi Non ho Comunque usano dei codici Checo È impossibile Chet di merda Chet di merda Chet Spero che questo video Vi sia piaciuto Non so se ho sbagliato Grammaticalmente Però Correggetemi nei commenti Mi sono stati tutti i professori Spero che questo video Vi è piaciuto Vi è piaciuto Farò uno spade Con un bellissimo L'accardimento Dei 30 like Come ho già detto Da Ross Iscrivete appunto I loro canali Soprattutto Dal canale di Ross Channel 88 Stato Detto intero Così Grande No perché Non mi scludete Magari Ross Trovano qualcuno Esatto Ross Channel Magari Mi state sulle balle Passate anche Anche la canale Gemelli Twins Che ha sempre Trovato in ogni video Visto che fa parte Della mia Bellissima Crew Della nostra Della tua Della nostra Passate ai social Descrizioni Poi vabbè Poi se volete Donare Donate Però non siete Obbligati Perché tanti Gemelli Sono belli Poveri Donate il sangue Iscrivete appunto I loro canali E niente ragazzi No come sempre Ci becchiamo Un prossimo video Ciao Ciao Ragazzi Ciao 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 Grazie per la visione!